Ciao popolo, eccomi qua, è poco che non ci vedevamo, lo so, il caldo è una cosa e un'altra, qua fai video diventa sempre più pesante. Allora, ciancia alle bande, stavolta video piccolissimo perché il video non è mio, vi racconto subito, ho avuto un paio di video fatti col cellulare da Yasuko Kumura, una persona eccezionale che io reputo una grande amica, che è la titolare del sito iqjapanavenue, non mi prendete per marchettarlo, però glielo dovevo perché sinceramente lo merita. Allora, ho deciso di pubblicare questi video con la sua autorizzazione ovviamente e con l'autorizzazione del personaggio ripreso, ho deciso di pubblicare questi video perché intanto si vedrà un grandissimo artigiano famosissimo al lavoro e vedere il dietro le quinte mentre un artigiano lavora, credo che sia una cosa che possa far piacere a tante persone. Allora, andiamo subito velocemente, io poi cercherò di parlare, di fare un piccolo montaggio video, cercherò di parlare sopra le immagini che scorreranno, anche perché l'audio originale è in giapponese, capite bene che neanche con un traduttore sono riuscito a tirare fuori qualche cosa di valido. Quindi, senza perdere tempo, scusate sto leggendo perché certi nomi sono scioglilingue. Allora, l'artigiano in questione è niente proprio di meno che Ryouki Mizouki. dice, e chi è? Eh, ma se io vi faccio un altro nome, allora sarà tutto più chiaro. Ryouki Mizouki è l'ultimo apprendista di Iwasaki. Adesso con Iwasaki le cose scorrono tutte un po' meglio. e continua, chiaramente con l'autorizzazione del suo mentore, quindi Sikyoshi Iwasaki, continua nella produzione di kamisori a cui a pieno diritto può apporre il marchio Iwasaki sopra e la mia amica Yasuko si è trovata dalle sue parti, vi dico anche quello, quindi era l'artigiano viva a Sanjo nella prefettura di Nikata. Era lì per altri motivi, per altri lavori, ha incontrato questo personaggio, ha realizzato dei piccoli video. Per questa volta non vi preoccupate, il video dura forse tre minuti in tutto, ha realizzato questi video e ho sinceramente il grande piacere a condividerli con voi. Nel particolare non si vedrà la formazione, la nascita, la creazione di un kamisori Iwasaki, anche se ho qualche foto che potrebbero far vedere, ma quello che posterò e che mi fa piacere postare è il metodo di affilatura di Ryuki, lo devo rileggere, Mizuoki, per far vedere appunto alla fine del rasoio, della creazione del rasoio, il suo processo di affilatura e ci saranno delle piccole sorprese, sinceramente anche per me erano cose aspettate, quindi basta con le chiacchiere, io vi auguro un buon divertimento e spero che la cosa possa interessarvi. Un salutone a tutti quanti, ciao popolo! Ecco il maestro all'opera, allora da quelle informazioni che ho ricevuto, il maestro sta affilando su una maruka che adesso vedete sta preparando usando una Mikawa Shiro Nakura. purtroppo non ho indicazioni su che tipo di Nakura sia, vedete la classica Shiro Nakura potrebbe essere Meggiro come potrebbe essere Coma, purtroppo non ho notizie in merito. Comunque guardate, pietra in mano, guardate la quantità di fanghiglia sollevata, non è poca, quindi questo anche per rispondere indirettamente a tutte le persone che sono un po' restie ad usare grosse quantità di fanghiglie su pietra, ma il metodo tradizionale giapponese è così. Per un giapponese sarebbe inconcepibile affilare senza ottenere, senza una sospensione sulla pietra di base, sulla fisca. Quindi vedete il maestro con i classici movimenti circolari che abbiamo imparato anche noi ad usare e ad apprezzare. Vedete che li sta alternando, adesso sta spiegando l'altro tipo di movimento, quindi anche questo molto classico, il classico movimento ad uscire e vedete come li alterna. Un'altra cosa che c'è da notare mentre il maestro lavora, guardate la velocità con cui si sta scurendo la fanghiglia. All'inizio di questa clip la fanghiglia era bianca, così come tutte le Mikawa Shiro Nakura procurano. Adesso la fanghiglia è decisamente grigia e vedete che il maestro pietra alla mano, adesso la sta girando proprio per sfruttare tutta la superficie della pietra, sta alternando movimenti circolari a movimenti a V incrociato, ad uscire. Quindi alterna, diciamo, delle fasi più robuste, delle fasi in cui velocizza l'azione con delle fasi in cui va a raffinare il risultato ottenuto. Ah, e prima che la clip cambia in quadratura, un'altra cosa che mi preme ricordate, avete visto quanto tempo ha dovuto impiegare il maestro per ottenere una sufficiente quantità di fanghiglia. Quindi questo tutto lascia pensare che sia la Maruka che sta tenendo in mano, sia la Mikawa Shiro Nakura, siano due pietre abbastanza dure. Scusatemi. Quindi vedete, per tutto questo tempo il maestro non ha fatto altro che alternare i movimenti e non ha mai rinfrescato la sospensione sulla pietra. Adesso stava bene, adesso sarà spiegando qualche cosa, ma a me quello che ho tagliato questa clip per farvi vedere, che anche il maestro usa usili moderni, anche lui controlla il filo con una lente. Non è un microscopio, come magari piace fare a molti di noi, ma comunque l'ispezione visiva con la lente del filo che sta nascendo è una cosa ritenuta molto importante anche da chi, scusate, viene dalla tradizione. Adesso vedete che lui comunque non ha lavato la pietra, ma lava il rasoio. Lavando il rasoio, passandolo sotto l'acqua, non fa altro che diluire molto lentamente la sospensione. Vedete adesso da quest'altra inquadratura quanta meno fanghiglia c'è. E ripeto, chiamiamo la pulizia della pietra, questa è la fanghiglia che a me piace molto, è quella che io chiamo ad acqua sporca. È stata ottenuta solamente lavando il rasoio e quindi portando via quel po' di fanghiglia che rimane sempre sulla lama. Notate anche che mano a mano che va avanti la progressione il maestro ha accorciato e rallentato molti movimenti. Adesso stava spiegando, si è visto benissimo, l'inclinazione del rasoio, l'inclinazione da mantenere. Adesso di nuovo, andando avanti con la progressione, si continua, lui il maestro continua ad ispezionare visivamente il filo, perché ripeto, non c'è assolutamente nulla di male. Il maestro a questo punto pensa di essere arrivato e qui c'è la sorpresa gigantesca. Guardate cosa tira fuori. Una cosa che a noi non sarebbe mai venuta in mente, perché forse la ritenevamo sbagliata. Quello che sta per essere inquadrato, scusatemi, non è altro che è una tavoletta di legno con sopra una stoffa di seta. È un panno di seta tirata su una tavoletta di legno. Il maestro la sta impregnando, vedete, basta pochissimo, ha picchettato con una siringa che contiene una pasta abrasiva diamantata. Una pasta diamantata da un micron. questo lo so, perché chiaramente è stato Iasuko a dirmelo in chat quando mi ha passato i video. Adesso guardate che cosa fa. Il maestro non sta affilando su pasta abrasiva, perché se no ha già orrore. Hai usato una maruca e adesso vai sul sintetico, chiamiamolo così, e perdi tutti i benefici. No, guardate i movimenti, sono a coltello, paralleli al filo. Il maestro non sta facendo altro che con dei movimenti leggerissimi e molto corti, se vedete. Non sta facendo altro che la pulizia del filo. Ecco, fa vedere, è una tavoletta, ripeto, è una stoffa di seta impregnata di pasta diamantata da un micron. Il maestro usa questo sistema per la pulizia finale del filo. Guardate, è già finito, quindi avete visto, forse ha passato sopra 10-20 volte al massimo. Adesso, ovviamente, un minimo di pulizia alla lama e si passa, ah, beh, scusate, questa parte me l'ero scortata, scoramellata sulla mano, piccola scoramellatina sulla mano. Quindi, vedete la bellezza di questo filmato? Si alternano tecniche antiche a tecniche moderne. E quindi, stavo dicendo, dopo la pulizia del filo su pasta diamantata, dopo una piccola scoramellatina sulla mano, il maestro prova il rasoio, il filo, l'affilatura ottenuta, col più classico dei metodi, col metodo HHT. Anche questo tanto bistrattato dai puristi, ah, serve, ah, no, non serve niente, ah, ma, l'unico, l'ultima parola è sempre del viso. Guardate, un artigiano che ha fatto la storia come si comporta. Finito il test HHT, prova anche sul bracciolino, sul, il pelettino dell'avambraccio. Quindi, voglio dire, eh, questo è il maestro che spiega purtroppo, ho messo la clip solo per farvi vedere in viso, eh, il maestro Ryoki Mizuoki, ma, eh, chiaramente, cosa sta spiegando, non lo sapremo mai. Comunque mi premeva ancora a dire, approfitto di questi pochi secondi per dire, nessun limite in affilatura, mente aperta. E eccomi qua. Allora, innanzitutto io spero che il video vi sia, vi sia piaciuto, vi abbia interessato, che vedere un artigiano, un artigiano famoso all'opera è sempre un bel vedere. volevo fare solamente due considerazioni e basta e mi levo subito dalle scatole. Primo, qui stiamo parlando di un artigiano che insieme ai suoi maestri ha fatto la storia e come avete potuto notare, lui non si è fossilizzato su metodi, scusate, e modi di affilatura tradizionali, ma adeguato eh l'affilatura tradizionale anche con eh metodi, sistemi e ausili moderni. Avete notato incredibile a dirsi usare eh una una pasta abrasiva diamantata, una una pasta da un micron diamantata dopo aver usato una maruca per noi, per molti eh sarebbe stata una bestemmia, ah ma come di qua di là, ma avete visto come e perché l'ha usata? L'ha usata per togliere bave, bavine e bavette, non ha fatto movimenti di affilatura ma movimenti orizzontali a coltello proprio per togliere le impurità e questa è una grande evoluzione del del metodo di affilatura fatta lì dove nasce cioè quando noi parliamo dell'utilizzo dell'affilatura sulle pietre giapponesi ci riferiamo a questi maestri, a questi personaggi che come vedete sono molto più elastici di noi, io sento, continuo a sentire, a leggere su internet, professori e professoroni che hanno la formula magica eh nell'affilatura, questo si fa, questo non si fa, questo è sbagliato, questo è, ah orrore per carità di Dio, invece come vedete proprio da parte di chi ha fatto nascere e sviluppare queste tecniche c'è grande elasticità e noi dovremmo prendere esempio da da questi personaggi, basta non ne avrei tante da dire ma non mi voglio dilungare più di tanto perché veramente una volta tanto sono riuscito a fare un video corto, ok quindi io intanto prima di chiudere ringrazio di nuovo l'amica Yasuko Kumura, la ringrazio veramente non tanto di aver registrato questo video ma di aver avuto la sensibilità, la gentilezza di averlo voluto condividere con noi, grazie. Allora vi lascio, spero di nuovo ve lo ridico, lo so rompo le palle, che la cosa che il video vi sia interessato, se vi è interessato bene, se non vi è interessato ciccia, fa caldo, puffo in piscina, ciao popolo, un salutone a tutti quanti, ciao!